Saranno davvero buone le arance che i coristi del Coro Idica venderanno nei paesi dell'Alto Piano per tutto il mese di dicembre. Davvero buone perché serviranno a finanziare un importante progetto del centro missionario di Ocesano. Le arance di Ribera per un sorriso, una manifestazione patrocinata dal Coro Idica di Clusone per raccogliere fondi per chi purtroppo è meno fortunato di noi, in questo caso i bambini di Cuba perché il ricavato servirà attraverso i padri missionari di Bergamo a Cuba per finanziare la realizzazione di un ambulatorio per curare l'asma bronchiale appunto dei bambini di Cuba. Le arance di Ribera sono conosciutissime ma soprattutto sono arance italiane. Io invito i consumatori a ricercare nei punti vendita i prodotti italiani appunto perché i nostri prodotti sono più garantiti perché la nostra legislazione è molto rigida mentre i prodotti che arrivano attraverso la globalizzazione da un altro capo del mondo sicuramente non hanno la genuità dei nostri prodotti. Ci ripresentiamo con un'altra iniziativa che è un'iniziativa di carattere umanitario e grazie per questa realizzazione, grazie al nostro carissimo amico dottor Paolo Ganduscio che in questa occasione ci sta regalando cento quintali di arance per questa manifestazione. Davanti a questa iniziativa, arance per un sorriso, l'unica cosa che volevo dire è dove potete trovare, dove potete darci una mano per aiutare questi bambini di Cuba. Noi ci teniamo molto e spero anche voi. Li potete trovare dal 6 al 24 dicembre in queste piazze, diciamo 6, 7, 8 e 24 a Clusone, 13, 14, 20, 21 e anche 6, 7, 8 e 24 in altre piazze di comuni che ci danno una mano.